Salve a tutti i miei citrizzanti e ben ritrati in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric ed oggi eccoci qui, finalmente direi, dopo 5 anni di attesa, ma secondo me ne varrà la pena, su Xenoverse per Aspera ad Astra. Ragazzi sono davvero contentissimo di portarvi finalmente questo gioco qua sul canale, perché raga come vi ho sempre detto più e più volte è un gioco al quale tengo davvero molto. E infatti raga se alcuni di voi si ricordano, ben 3 anni fa portai qui sul canale proprio la parte 1 e a distanza di 3 anni il vecchio Pokémon Xenoverse è finalmente arrivato e ci possiamo giocare tutti quanti tranquillamente, perché raga è un gioco totalmente gratuito, sviluppato dai Widdle e ringrazio ancora veramente per quello che hanno fatto. Ho sempre sostenuto questo gioco raga, ma ragazzi direi di non perderci in chiacchiere e di incominciare a giocare a questo gioco raga, che ripeto nuovamente è un gioco fantastico. E abbiamo subito due modalità, ovvero la Classic Mode e la Modern Mode. La Classic Mode permette un'esperienza simile a giochi di vecchia generazione senza distribuire appunto esperienza a tutta la squadra. E invece la Modern Mode, la modalità moderna permette di avere un'esperienza più leggera, con un sistema di esperienza più simile alle ultime generazioni. Io sinceramente metterei la Modern Mode, in modo tale che appunto possiamo andare più spediti durante appunto l'avventura. E raga è un gioco totalmente in italiano e a differenza di 3 anni fa la grafica è migliorata davvero tantissimo. Qui abbiamo Versil, che effettivamente sarebbe il padre del nostro protagonista. Non ce la faccio più ad aspettare. Signore venga qui, ho una splendida notizia per lei, mi segua forza. Raga veramente, è sempre un'emozione rivedere questa scena, perché secondo me è una delle migliori scene di selezione maschio barra femmina di tutto il mondo Pokémon. E secondo me forse proprio raga la migliore. E proprio con un gioco, vediamo se riesce a indovinare il sesso del suo bambino. Secondo lei è un maschietto o una femminuccia? Raga, io personalmente metterei maschietto perché così sono. Cioè non tanto maschietto però. Complimenti signore indovinato, è proprio un bel maschietto. Venga con me. E raga lei è la nostra mamma. Versil, resti pure qui da solo con sua moglie. Edera, come ti senti? Guarda che bellissimo bambino, chiedete alla luce. Caro, come vogliamo chiamarlo? Voglio che sia tu a scegliere il suo nome. Possiamo inserire al massimo sette caratteri e direi che Mr. Electric è l'unico nome che più o meno ci azzecca. Mr. Electric, trovo che sia fantastico, sapevo che non mi avresti delusa. Il tempo passava e Mr. Electric cresceva, trascorrendo le giornate in una famiglia gioiosa. Cinque anni dopo... Mr. Electric, scendi, io e la mamma dovevo parlarti. Madonna raga che bella la host. Madonna raga, bello. Abbiamo deciso che è giunto il momento di mostrarti un po' il mondo qui fuori. Oggi andremo a fare un giro per il range spiegadoro. Mi raccomando, fate attenzione. Ma guarda un po' che bella giornata. Questa nefresca mi mette sempre di buon umore. Raga, a me nel frattempo stanno salendo i feels di tre anni fa quando ho giocato per la prima volta. Per di qua, la nostra prima tappa sarà la fattoria. E raga, che bello che è. Che bello davvero. Qui lì c'è un mill tank. Raga, questo gioco, se non sbaglio, dura più di cinquanta ore. Quindi, GG per voi, Widdle. Perché raga, veramente, hanno fatto un gran lavoro. E non vedo l'ora di vedere come la storia prosegue oltre quello che ci siamo fermati ben tre anni fa. Le acque di questo laghetto sono così limpide che schiariscono anche la mente. Non trovi, Mr. Electric. Forza, andiamo. C'è un'ultima cosa che devi vedere. Vedi questo piccolo monumento, Mr. Electric? È stato eretto in onore di tuo nonno. Che ci ha lasciato i danni ormai. Ma sei ancora troppo piccolo per queste storie. Ora si torna a casa. E ora, se non sbaglio, dovrebbe accadere una cosa particolare. Esatto. L'inizio è simile. Vediamo un po'. Anche se più o meno già sappiamo. Ma io cerco di non farvi spoiler. Ma cosa ci fanno delle Pokémon qui? Le avrà perso qualcuno? Mr. Electric, aspettami qui. Io vado a controllare. Sembra anche che ognuna contenga un Pokémon. Uno di tipo erba, uno di tipo fuoco e uno di tipo acqua. Mi è venuta un'idea. Perché non ne prendi uno? Forza, scegli il Pokémon che più ti piace. Raga, tutti e tre gli starter sono fantastici. Però, personalmente, mi sento di scegliere proprio Shulong. Colui che mi ha accompagnato per la prima volta nella parte 1 di questo gioco. E raga, me ne sono totalmente affezionato. Perché per me è uno dei Pokémon più belli di questa generazione. Anche se però, ovviamente, non li conosciamo tutti. Quindi, raga, io scelgo Shulong. Anche se fu nella prima volta la mia scelta. Ma raga, Shulong è Shulong. Perfetto, prendiamo lui. Madonna, raga. Madonna, raga. Ehi, tu, c'ho le mani da quella Pokéball. E lui è uno di un team malvagio. Attacca, Tirani, tarra. Tiò. Mi pare che lui non c'era nella parte 1. Mi pare che non c'era. Non vorrei errare. E raga, eccolo là Shulong. Oh, che bellino. Madonna, raga. Io veramente non vedo l'ora di scoprire come va a finire questo gioco. Raga, c'è. E ovviamente noi non parliamo. Forse è meglio scendere a Pionoterra. Raga, intanto lì c'è un poster di Scovile. Ed è anche lui un Pokémon fantastico. Non vedo l'ora di scoprire anche tutti quanti i Pokémon. Perché alcuni li conosco. Mentre ovviamente altri no. Perché non sono stati spoilerati. E il team sarà un bel po' diverso. Auguri di buon compleanno, Mr. Electric. Peccato che papà non possa essere qui a vedere quanto tu sia cresciuto. Sai bene che è sempre all'estero per lavoro. Ragazzi, fan fact. La prima volta che giocai la parte 1 di Xenoverse. Fu proprio il mio compleanno. E quindi pensai che questo evento era tipo collegato all'orologio. Sapendo che il computer era il mio compleanno. Aveva fatto il compleanno. E alla fine ho scoperto che non era così. E ci sono rimasto un po' triste. Sta comunque il video su YouTube. Lo potete tranquillamente andare a recuperare. E tesoro, cos'hai? Ti vedo un po' scosso. Racconti del tuo incubo alla mamma. Non sarà il giorno più adatto. Ma penso che ora tu sia grande abbastanza per questa storia. 11 anni fa ormai. Tuo padre decise di portarvi a fare un giro al di fuori del nostro ranch. Io era abbastanza contraria. E quel giorno ero davvero in pena per il vostro rientro. Il fatto che ci fosse papà con te però mi tranquillizzava. Tuttavia quella sera nessuno fece ritorno. Solo dopo qualche giorno, nonna Lea bussò la porta nel cuore della notte. Che sollievo trovare te sull'uscio di casa. Eri svenuto e avevi una ball con te. Di tuo padre però nemmeno l'ombra. Da quel giorno non lo vidi più. Mi dispiace di avertene parlato solo adesso. Dopo anni di menzogne su menzogne. Però è il mio compleanno ed è giusto un bel regalo che mi ha fatto. Tesoro ma cosa dici? Ti sei bevuto il cervello per caso? Come ti salta in mente una cosa simile? Non sei pronto per metterti le tue tracce di papà? Sei ancora un ragazzino. Ce ne stiamo già occupando io e Esther. Non è semplice neanche per noi adulti. Insister non servirà a niente Mr. Electric. Non cambierò idea per nulla al mondo. Però ragazzi noi siamo testardi e partiamo all'avventura lo stesso. Ah, fine in camera tua ora. Diciamo che era un po' triste. Non con questa espressione dovevo farla però. E vediamo appunto la foto con nostra mamma e nostro padre. Madonna ragazzi. Io non ho parole. Io non ho parole veramente. Ecco Shulong. No però è triste. Che bellino con quello sprite quando è triste. Sembra che Shulong abbia qualcosa in mente. Questa parte non c'era raga. Ma certo ti sta suggerendo di scappare via dalla finestra. Non c'era questa parte raga. Questa è una parte nuova. Shul! Beh effettivamente è aperta. Noi ci buttiamo dentro così. E la pokeball di Shulong sarà bene prenderla con sé. Boom siamo caduti. Ok. Sì sì no raga non c'era questa parte. Fortuna che l'albero a tutti te l'ha caduta. A quanto pare Shulong ha tutta l'intenzione di venire con te. Meglio farlo rientrare nella pokeball. E abbiamo ottenuto proprio Shulong. Direi che la nostra avventura può incominciare. Non abbiamo ancora le scarpe da corsa. Però se non dico errato. A breve qualcuno dovrebbe consegnarcele. Intanto qui c'è una pokeball. Una pozione. Che male non è. E lei è proprio nostra nonna raga. Oh ma guarda un po'. La mamma si dice si ha lasciati andare. Sì sì ci ha dato il consenso per potercelo entrare nella casa. Si sei resa conto di essere stata fin troppo protettiva con te. Beh stai per affrontare un viaggio che ti porterà ad incontrare tanti nuovi pokemon. Come puoi ben vedere quest'erba è più alta di quella normale. È qui che si annidano i pokemon selvatici. Bello ottenimento degli strumenti. Molto simile a quello di tre anni fa. E ragazzi allora il primo pokemon che incontriamo è niente poco di meno che Widdle. Ovviamente raga ovviamente. Ah e vi ripeto vi ricordo che questa regione è la regione di Eldew o di Eldiv. Che sarebbe proprio il contrario di Widdle. E raga l'HD della battaglia così come gli sprite back e front sono cambiati totalmente. Ovviamente rispetto appunto a tre anni fa. In questo caso abbiamo Widdle. Abbiamo anche delle pokeball. Direi ovviamente di provarlo a catturare. Perché raga Widdle che fai non lo catturi. E vediamo un po' di catturarlo. Allora vai con le pokeball. Ne abbiamo cinque. Preso Widdle. Ottimo. Forse otteniamo anche i punti esperienza. Esattamente. Otteniamo dieci punti esperienza. Perché abbiamo scelto proprio la modern mode. È cambiato anche il pokédex. Sono cambiate davvero tante cosette. Ed è per questo che ho voluto ricominciare l'avventura da capo. Proprio per mostrarvi questo gioco al 100%. Nonna Lea ma tu non è che ci dovevi dare uno strumento particolare? Prima di proseguire verso nord. E quindi dirigerci verso il primo percorso. Voglio un attimo vedere se c'è qualcosa alla fattoria. Eh sì infatti raga c'è uno strumento. Forse una bacca arancia. No un antidoto. Ok. Però mi ricordavo che c'era uno strumento. Per curiosità voglio vedere cosa accade. Ok. Perfetto. Non vorrei rientrare a casa dopo tutta la fatica. Giustamente. Dici con me. Te l'hai scappato. Un po' dove vuoi tornare un'altra volta a casa. Se vuoi fare il bravo ragazzo. E raga quindi direi di dirigerci verso il primo percorso. Dove pensi di andare giovanotto? Nostra mamma. Pensavi davvero di andartene senza dirmi nulla? Ti sembra un comportamento maturo il tuo? E ragazzi. Questa scena non c'era. Non c'era tre anni fa. Mi piace tantissimo. Forse so che cosa sta per accadere. Non ti rendi conto di quanto sia pericoloso il mondo là fuori. Shulong hai della stessa idea allora? Sarebbe dovuto succedere prima o poi. Vedo che con te le parole le servono a poco Mr. Electric. Bene. Allora dimostrami di essere davvero all'altezza con una lotta a Pokémon. Ragazzi sfidiamo nostra madre. Sfidiamo nostra madre. Cioè io non lo so. Se darti una lezione servirà a proteggerti. Lo farò senza pensarci due volte. Avanti. Raga la host è bellissima raga. Io. Io non lo so. Io non lo so. Io non lo so davvero. È stupenda. E ma nel campo Jigglypuff. Ok di livello 5. Ok noi intanto siamo di tipo drago. E beh siamo svantaggiati contro Jigglypuff. Ok perfetto. Usiamo pistola acqua. Perché in teoria dovrebbe essere suono folletto credo. Perché sì raga vi ricordo che in questo gioco hanno introdotto un nuovo tipo. Ovvero proprio il tipo suono. E molti Pokémon sia nuovi che appunto delle vecchie generazioni. Assumeranno proprio questo tipo. Vediamo un po' di sconfiggere nostra mamma. Perché penso proprio che è questo che ci permetterà di andare in giro per la regione. Nella parte 1 di Xenoverse. Era proprio nostra mamma a dire. Vai a Ludopoli da un amico di tuo padre. Per capire molte più cose riguardo appunto questa situazione. E' entrato Jigglypuff e si è svegliato. Si è curato volevo dire. Vediamo un po' di mandare capo a Jigglypuff però per favore. Ok dai dai che ce la facciamo. Ok manca un ultimo attacco. Vai con l'ultimo pistola acqua. Perfetto. E ciao Jigglypuff. Va bene. Battaglia. Abbastanza impegnativa eh. Deve essere sincero. E abbiamo vinto contro nostra mamma. E raga sì. In questo gioco ci sono anche gli obiettivi. Ma chi voglio darla bere. Mr. Electric ha nei tuoi occhi ho visto la determinazione. E' davvero questo ciò che desideri più di ogni altra cosa. Forse è proprio come dice Nona Lea. Non bisogna tarpare le ali ai propri figli. Ho sbagliato a tenertelo oscuro così a lungo. Ma l'ho fatto solo per il tuo bene. E va bene tesoro. E' giusto che anche tu spicchi il volo per crescere e maturare. Se questo è il tuo sogno. Vai ad affrontare la tua grande avventura per Eldi. Ma ricorda che per qualsiasi cosa. Io sarò qui. Pronta ad accoglierti a braccia aperte. Con tutta questa faccenda. Quasi dimenticavo il tuo regalo di compleanno. Ecco qui ometto. Queste ti faranno sicuro comodo. Le scarpe da corsa? Vero? E abbiamo ottenuto le scarpe da corsa. Ora è tutto il necessario per raggiungere Balansopoli. Lì troverai Esther. Un vecchio amico di papà. Senza dubbio saprà darti qualche dritta. E raga forse questo Esther è proprio un personaggio che conosciamo molto bene. Però con un nome diverso. Mi raccomando non farmi stare in pensiero. Shulong tienimelo da occhio ok? In bocca al lupo mio piccolo metto ti voglio bene. Ok raga penso che da ora inizia veramente l'avventura. Infatti qua c'è proprio il nuovo logo. Prima era Pokémon Xenoverse. Invece ora Xenoverse per Aspera d'Astra. È nata una stella. E quindi raga quello che abbiamo fatto fino ad ora è stato praticamente il prologo. E vediamo un po' di vedere il primo Pokémon quale sarà. Penso proprio Sparkle raga. Sparkle che nella mia avventura di tre anni fa entrò nel team. Per ora raga non so ancora chi voler inserire nel team. Però sicuro raga lo catturiamo perché è il nuovo Pokémon. E l'abbiamo ucciso. Perfetto. Ok però intanto raga qua c'è il primo allenatore. E direi ovviamente di affrontarlo. Nella prima parte lui aveva proprio un Bidoof. Anche ora ha un Bidoof? Gli hanno cambiato Pokémon? No. Ha un Bidoof. Perfetto. Mi ricordavo molto bene. Ragazzi io personalmente ho voluto scegliere nuovamente Shulong. Perché mi sta a cuore raga. È il mio starter preferito. Avrei anche potuto cambiare. Però gli altri due non mi piacciono tanto quanto mi piace Shulong. E ma nel campo Zigzagoon. Ok. Ovviamente non di Galar. Ok. Perfetto. Battuto questo primo allenatore. Premendo X raga possiamo aprire appunto il menu. E questa è la nostra scheda allenatore. E raga premendo Z qui possiamo vedere le otto medaglie. Nella prima parte raga potevamo arrivare fino alla terza medaglia. Però mancava davvero poco. Per poter poi sfidare la quarta capolestra. Che ovviamente non vi dirò il nome. Perché non voglio appunto spoilerare. Altro Pokémon. Vediamo un po' se Sparkle. No raga. Yemin. Yemin. Anche lui entrò a far parte del mio team tre anni fa. Forse un'altra azione non lo manda KO. Ok. Perfetto. Preso Yemin. Primo Pokémon della nuova regione. Catturato. Di tipo normale lotta. Perfetto. E raga questo è il secondo allenatore. Vediamo un po' quali Pokémon ha. Non mi ricordo bene. Mi ricordavo solo il primo allenatore. Perché raga il primo allenatore non si scorda mai. Ok. Manda un semplice Zigzagoon raga. Ok. E abbiamo sconfitto quest'altro allenatore. Altro Pokémon selvatico. Ovvero uno Sparkle. Allora vediamo un po' di catturarlo perché l'abbiamo ucciso prima. Piccolino. E preso anche Sparkle. Perfetto. E siamo a due di 200. Penso che ci arriveremo a catturarne 200 raga. Mettiamolo in squadra per ora. Ma per ora non penso a fare parte del team. E raga direi che forse siamo arrivati appunto nel primo percorso. Direi di continuare tranquillamente. Però qua accade una cosa molto particolare. Forse non è quello che penso. Qui c'è un bimbo. Lui assomiglia davvero tantissimo a Max. C'è questo tizio che effettivamente ha accompagnato Ash per tutta la regione di Owen. Ah mi hai fatto prendere un colpo. Pensavo fossi un Pokémon selvatico pronto ad attaccarmi. Tu vuoi tutta l'area di essere un allenatore. Ho forse indovinato? No. Non prendermi giro su via. Il mio nome è Adi. Sono un vero appassionato di Pokémon e tutto ciò che li riguarda. Ma data la mia età mi limito ad osservarmi i comportamenti. E a cercare tesori nascosti nei nidi Pokémon. Come dici scusa non conosci nidi Pokémon? Vedi non sono altro che tane in cui i Pokémon nascondono prezzi e soggetti in cui si imbattono. Ovviamente puoi trovare i nidi in ogni angolo della regione. Ma sappi che solo un Pokémon può addentrarvi sì. E anzi talvolta solo uno di un tipo specifico. Bello questo. Ma c'è anche in gioco la componente rischio. Infatti se il Pokémon di quel nido dovesse accorgersi della presenza del tuo amico non esiterebbe a scacciarlo seduta a stanze. Vedo che hai un Pokémon lì con te. Perché non provi ad intruforarti in questo nido? Ti auguro una prosperosa carriera. Sayorara? È una nuova funzione di questo gioco dove noi possiamo giocare proprio con i nostri Pokémon. Cioè noi impersoniamo proprio i nostri Pokémon. È una funzione bellissima, cazzo. È bellissima come funzione. Però ovviamente non dobbiamo farci accorgere dei Pokémon presenti all'interno. E abbiamo ottenuto una caramella rara. È una funzione fantastica che mi piace davvero molto. C'è stato un piccolo tentativo da parte della Game Freak in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Dove nella sede del Team Rocket noi potevamo giocare con Pikachu. Però raga era una semplice giocata di due minuti. Invece raga ci saranno davvero tanti nidi e non vedo l'ora di scoprirli tutti quanti. Raga ci sono 19 tane, mi ha risposto l'obiettivo. E raga è una funzione davvero molto bella. Qui c'è un altro allenatore intanto che raga meriterebbe davvero tanto l'occhio della Game Freak. E intanto questo a scolare amando in campo Abra. E direi dunque raga di entrare nella prima città. Ovvero proprio a Balansopoli. Raga il nome della prima città non era così. Ora non mi ricordo effettivamente come si chiamasse. Però vi assicuro che il nome non era questo. Entriamo nel centro Pokémon per vedere se è cambiato. No, in teoria non dovrebbe essere cambiato. E qui raga c'è anche il Market. Mi piace come hanno gestito l'acquisto degli oggetti. È molto schematico, molto pulito e non dispersivo. Mi piace molto. E raga direi di uscire e di vedere un po' com'è questa prima città. Ok, c'è qualcuno, anzi c'è qualcosa che qualcuno spegne quelle fiamme. Si chiama Franca, curadonna. Questo si chiama Lucia. E bambini, qualcuno pensi a loro. Affuoco il fuoco. Chiamate Esther, presto. Eccolo qua raga, Esther. Eh raga, non so il perché l'abbia chiamato Esther, ma è Aster. Vabbè. Vai Suicun, spegni le fiamme. Raga, c'ha Suicun, Aster. Assuicun. È detto questo. Non preoccupatevi signori, qui ci penso io. E tu chi sei? Non ti ho mai visto da queste parti. Eppure hai un'aria così familiare. Beh, ho altro a cui pensare adesso. Sta alla larga dei guai, mi raccomando. Ah, ma tu sei Mr. Electric? Ah, ci picchia, quanto sei cresciuto? Sono io, Aster, non mi riconosci? Beh, in effetti eri ancora in fasce quando li ho conosciuto. Tuo padre era come un maestro per me. Ma vedo che hai delle Pokéball con te. Ed era si è decisi a votare il sacco, eh. Perché non vi ricommi a ciuffare il furfante che ha quasi messo a fuoco la città? Quello non è un Pokémon qualsiasi. È uno dei fantomatici Pokémon X. Le informazioni su di loro ancora scarseggiano. Sappiamo solo che arrivano da un altro mondo, lo Xenoverse. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ne parleremo più tardi sul luogo. Conoscendo quel piccolo furfante sarà sicuramente andato sulla spiaggia a polvo stella. Ci si arriva proseguendo lungo il percorso 2, il sentiero a lato destra. Ti aspetto laggiù. E raga, questa cosa è una cosa che faremo. Però nella prossima parte, ovviamente. E raga, direi che per questa prima parte di Xenoverse per Aspera d'Astra è tutto. Raga, sono davvero contentissimo e ve lo ripeto ancora di potervi portare questo gioco qui sul canale. Perché raga, ce lo giocheremo tutto quanto insieme. Perché è un gioco, raga, che voglio con la V maiuscola portarvi qui a tutti i costi. E quindi ragazzi, cosa dire? Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, sapete cosa fare. Lascia tantissimi pollicini in su. Commentate, condividete. Ci vediamo in un prossimo video. Attivate la campanella prima dei aggiornati appunto sui feed di video. Inoltre, ragazzi, vi volevo ricordare di andare a visitare il mio profilo Instagram. Perché oggi ho pubblicato una foto in collaborazione proprio con i Nintubers. Quindi ragazzi, se non sapete di che si tratta, andate su Instagram e capirete tutto quanto. E quindi ragazzi, cosa dire? Ci vediamo in un prossimo episodio. Qui di Mr.Ectrick è tutto e arrivederci.